ciao bimbi eccoci di nuovo pronti con le emozioni come ti senti oggi proviamo a guardare questo questa ruota questo orologio guardate c'è quello con un bellissimo sorriso allegro che è giallo che è la gioia sono felice oggi sono proprio felice poi c'è di nuovo questo qui dove dice oggi sono proprio triste guardate la bocca questo qui dove dice oggi sono impaurito che paura magari c'è un temporale forte per cui di te oggi ho proprio paura e questo qui è quello rosso dove è arrabbiatissimo guardate quindi servono le forbici un fermacampione poi dovete cominciare a ritagliare tutto intorno io per fare più veloce ne ho già tagliato un bel po eccoci qui il nostro orologio delle emozioni adesso ogni orologio che si rispetti che cosa ha una lancetta bravissimi che la lancetta che dove scorrono i minuti e le ore quindi bimbi con le forbici qui dovete farvi aiutare dalla mamma mi raccomando dal papà cominciate a fare un buco qua dove c'è questo puntino nero ne fate un altro qui dove c'è quest'altro puntino nero poi li mettiamo uno sopra l'altro cerchiamo il nostro fermacampioni cerchiamo di infilarlo dentro bene apriamo state attenti eh ecco qui schiacciato bene oggi guardate come gira bimbi oggi io come mi sento oggi oggi mi sento mi sento mi sento felice perché sto parlando con voi ciao bimbi voi come vi sentite come ti senti tu oggi prova a far girare anche tu e poi mi dite come vi sentite ciao bimbi alla prossima